Buongiorno e felice a tutti i miei seguitori di AVE24.com Non sta qui nella Alta Vista, una polizia para un auto, cabe para un auto di un sospechoso che lo ha sequestrato su ex pareja, che non ha sequestrato, non ha sequestrato la dama di un auto contro la sua volontà e, ademais di non ha sequestrato, ha amenazato anche un morto La polizia nel momento non sta attendendo con lui, per la sua amenazza e la sua sequestrura che lo ha fatto con la sua ex pareja, così non ha presentato la casa, va con la sua mujer, sua ex pareja, va con lui, contro la sua volontà, dice che non ha sequestrato, che lo ha fatto con lui, però, ademais di questo, ha amenazato anche un morto, fortunatamente nel caso che ha fatto un luogo passivamente, una nota che ha molta violenza, con excepzione che non sta molto sicuramente, se è un sospechoso messaggio, ma rivela sufrano per manchare la sangra, però è anche un disegno che non ha la sangra, è un disegno che ha ripesciato. In ogni caso, si è stato detenito, si è stato guardato la polizia per attenderlo, la nostra AVBt4.com ci sono altre informazioni delle quali sono i bambini in Andiarua ancora, share, like, and follow ci sono un po' di informazione di tutti i bambini in Andiarua la nostra AVBt4.com per ripetere, è che si tratta di un caso di sequestro in amenazza al morto un DJ il DJ è il nino a sequestrar sua ex-parezza che è in Yucune e a amenazare al morto il DJ è il detenito di polizia qui nella Alta Vista e anche la sua ex-parezza quali sono i bambini che si tratta di sequestrar e a ricevere la manazza di morto ancora, share, like, and follow grazie a tutti 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 buona grazie a tutti grazie a tutti lei ci sono grazie a tutti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.